Allora, vado. La formula dell'architettura ciclofelina, non so esattamente cosa sia, è un tema che unisce due aspetti che mi interessano molto e che mi frulla per la testa d'anima, non ho mai avuto tempo e mezzi per poterla sviluppare. Il tema è quello dei gatti e delle biciclette come maestri o maestre di architettura, come portatori di una sapienza in termini di capacità dell'arte di abitare. I gatti, l'ho sviluppata di più qua, sono dei maestri dell'arte di abitare, sanno sempre dove andare a mettersi, sanno dove c'è il punto più fresco della casa, dove c'è il caldo, si situano, sanno situarsi, una cosa che l'architettura ha quasi disimparato. Le biciclette sono un esempio bellissimo di rapporto fra mezzi e fini, c'è un'economia dei mezzi, una leggerezza, però ti permettono di andare praticamente ovunque e sono silenziose, hanno tante qualità che possono essere anche dell'architettura. Ok, grazie mille. Grazie a voi.